amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazione autosportive è un po che non non ci troviamo qua in officina abbiamo fatto un paio di mesi di video di da scalici in sede adesso tornato fuori il sole inizia la primavera iniziava iniziamo con i video in diretta sui lavori che facciamo allora questa è l'ennesima giulietta ne abbiamo fatti veramente tantissime di queste macchine è una giulietta 1.4 turbo benzina la versione 130 cavalli sulla quale il cliente ci ha chiesto una modifica sulla linea di scarico adesso max sta deve ancora iniziare il lavoro quindi vi facciamo vedere il lavoro a terra prima di iniziarlo in sostanza allora partiamo da quello che è la situazione reale che abbiamo smontato dal dalla macchina questo è il terminale uscita singola con il silenziatore poi c'è il tubo centrale e questo è il chiamiamo l'estrattore il dam posteriore ovviamente con l'asola predisposta a sinistra per l'uscita singola a questo punto vi facciamo vedere non montato la situazione finale che sarà appunto composta da tutta la parte centrale che va eliminare appunto il silenziatore che è ancora in macchina dopo lo vediamo il silenziatore centrale non è ancora stato smontato quindi andremo eliminare questo rompifiamma non è proprio un silenziatore se non sarebbe molto più grosso rompifiamma che verrà appunto tolto e verrà fatto un tubo diretto come vedete appunto in questa parte qua sono due giunzioni con le flange e lì abbiamo una flange ellittica che è molto semplice che si va a copiare con l'anteriore dove lì c'è il catalizzatore quant'altro andando verso la parte finale dello scarico questo è il terminale queste sono le due staffe di ancoraggio che rimangono quelle originali quindi andremo a vincolare lo scarico sui gommini in supporto nel caso in cui dipende dalle macchine dipende da 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 come sono le condizioni dei gommini se fossero particolarmente rovinati chiaramente li mettiamo nuovi e a questo punto di solito si mettono anche un pochino più resistenti queste sono le due curve che si vanno a raccordare sull'uscita del terminale al termine delle quali andranno montati andranno montate le uscite cromate queste sono le uscite cromate da 102 sono quelle che usiamo più più spesso su questo genere di terminale questo è un terminale in gergo si chiama duplex è omologato mentre la parte centrale avendo eliminato il silenziatore teoricamente non è omologata questa parte mi sono dimenticato di accennare che è uno scarico ragazzon quindi come ho accennato tante volte utilizziamo questa azienda che è molto precisa e con la quale collaboriamo molto bene per qualunque genere di necessità ci vengono sempre in conto sono estremamente collaborativi devo dire rarissimamente abbiamo avuto problemi di assemblaggio utilizzando i loro prodotti all'interno del kit che ci viene dato viene fornita anche questa chiamiamola questa piastra diciamo di materiale termo isolante che sulla macchina ovviamente non c'è e che va applicata appositamente ai suoi fori già predisposti sulla macchina non c'è perché ovviamente essendo il terminale singolo e perpendicolare al paraurti rispetto a quello parallelo al paraurti posteriore ovviamente questa parte qua manca quindi direi se vogliamo un piccolo pezzo però secondo me fa capire la diciamo la completezza del del lavoro come un lavoro deve essere fatto bene e soprattutto come un'azienda lavori bene anche nei dettagli quindi già addirittura preforata non fare altro che metterla su ci sono già addirittura le viti di fissaggio che vengono fornite nel kit direi un plug and play perfetto c'è un lavoro del genere per un abituato a farli come noi che montiamo decine e decine di scarichi ogni mese è un lavoro che impiega paio d'ore diciamo ecco il pezzo che andiamo a completare c'è quello che verrà fatto a completamento ovviamente vedete che non possiamo utilizzare il l'estrattore quello di serie perché manca il buco dall'altra parte in sostanza allora abbiamo ordinato questo estrattore che andrà ovviamente a sostituire quello di serie qua verrà applicata la retina di finitura ovviamente verrà applicata anche in questa parte e qua ci saranno già i fori predisposti per l'alloggiamento delle due uscite questo lavoro un pochino più lungo perché necessita appunto di una parte soprattutto la parte superiore dove si utilizza una colla particolare un silicone nero specifico per carrozzieri che necessita di un tempo di asciugatura quindi il montaggio se vogliamo è relativamente semplice la consegna della macchina quando c'è da montare questo tipo di particolare noi suggeriamo ai nostri clienti di lasciarci sempre la macchina almeno una giornata in maniera tale che il montaggio viene fatto diciamo nell'arco della mattinata viene diciamo vincolato con uno scotch particolare il pezzo rimane ad asciugare tutta la notte e la mattina dopo è perfetto quindi diciamo una volta che si è indurito il collante è come se ci fossero delle viti ovviamente le viti vengono messe su tutta la parte inferiore nella parte superiore c'è un bordino molto sottile che fa da gancio non ci sono dei fori non si possono mettere delle viti passanti perché sarebbe chiaramente una schifezza di lavoro e in questo modo il lavoro esternamente perfetto l'unica cosa che c'è da come diciamo in giro da tribolare un attimino perché il tutta la parte superiore va fatta in collaggio io direi che anche per questa giulietta per oggi è tutto casomai se abbiamo tempo quando la vettura sarà finita vi faremo poi un aggiornamento sul video ma comunque di vetture di questo genere con questo tipo di sky che ne abbiamo pubblicate decine quindi se anche noi vi facciamo vedere sentire il risultato finale grosso modo sono più o meno tutti uguali per il momento è tutto per qualunque genere di informazione mi trovate in sede quello che vi chiedo perché ci aiutate molto a sostenere il canale cliccare sulla campanella soprattutto iscrivervi al canale per rimanere sempre giornate su quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao ciao